Da lontano sembrava una cagata, da vicino lo sembra ancora di più, se non fosse per questo tramonto bellissimo, che dà nobilità un po' a questa cagata, ma questa cagata in quanto tale è una cagata che rimane una cagata, una grandissima cagata che ha un costo elevato, perché una cagata che ha un costo elevato è inversamente proporzionale, più aumenta il costo più la cagata si dimostra cagata agli occhi di una sensibilità, ed ecco questa grandissima cagata che vi ho presentato stasera.